Tre mesi tra i più significativi, quelli estivi da giugno ad agosto, che raccontano di come l'Umbria abbia visto crescere i flussi turistici, di oltre il 4% per gli arrivi e dello 0,76% le presenze, con l'aumento di turisti, sia italiani che stranieri. È il Folignate che, sotto la voce arrivi, cresce di più in Umbria, più 13%, seguito dalla Tuderte, più 10%. Per le presenze, invece, quasi tutto il territorio in calo, con crescite nel Folignate, in Valnerina e nello Spoletino. Ma non va male, in termini generali, anche all'Ugubino, che registra un più 4,89% per gli arrivi. Nota dolente, invece, le presenze in calo dello 0,37%. La sfida, dunque, resta per Gubbio quella di attrarre turisti per più di 12 ore, convincendoli a trascorrere almeno una notte in alberghi agriturismi. In molti, invece, come più volte è raccontato anche ai nostri microfoni, optano per la vicina Sisi o per la zona del lago Trasimeno, ad esempio, per poi spostarsi con gite giornaliere nei borghi limitrofi. Basta sottolineare che delle 2 milioni e più di presenze registrate nell'intera provincia di Perugia nel trimestre sopraindricato, 400.000 arrivano dall'Assisano, 550.000 dalla Trasimeno. Insomma, Gubbio si aggiudica solo il 6% del turismo che spende per dormire almeno una notte, numeri di poco migliori dell'Alta Valle del Tevere e dello Spoletino. Ma guardando, invece, le luci di questo studio, sono stati gli italiani a voler visitare Gubbio in questa estate. 1.800 persone in più hanno visitato strade musei per un più 5%. Gli stranieri crescono, invece, del 2%, con appena 193 unità in più. Inoltre, gli stranieri scelgono sempre più strutture dell'extra alberghiero, mentre gli italiani preferiscono di gran lunga l'alberghiero. Sarà necessario, ha commentato l'assessore regionale Paparelli, di vedere il sistema integrato del turismo, semplificando e potenziando anche l'offerta intorno a tre prodotti, territorio, cultura e spiritualità, a cominciare dalle iniziative che saranno messe in atto per il prossimo giubileo. Puntiamo inoltre a forme innovative di promozione, come il contest che partirà a breve di giovani videomaker da tutta Italia, che produrranno per web e a una nuova segnaletica turistica regionale che agevoli i percorsi e valorizzi le opportunità. Sui mercati esteri, infine, ha concluso Paparelli, stiamo potenziando il lavoro delle nostre antenne locali, che operano sui principali mercati di riferimento, con l'obiettivo di innovare nel solco della tradizione.